allora con questa magia riusciremo a spegnere tre candele senza usare il fiato senza usare acqua niente prenderemo un bicchierino faremo così si spegneranno le candele è una magia da lasciare a bocca aperta attenti cosa ci vuole per fare questa magia ci vogliono tre candele basta una se ne avete tre viene più magica la cosa se no con una è magica lo stesso è perché comunque è una cosa da lasciare a bocca aperta lo stesso io le accendo adesso sono tre candele accese adesso ho bisogno di un contenitore questo contenitore qua ci metto dentro un po di acento e ne metto un pochino neanche tantissimo un pochino così ok prendo una polverina magica che avete in casa tenti che è magica questa si chiama bicarbonato prendo un cucchiaio e ci metto dentro un po di bicarbonato nell'aceto farà la schiuma attenzione schiuma mega mega schiuma attenzione troppo no giusto attenzione guardate adesso cosa succede guardate cosa faccio ho spento tre candele facendo solo così non è caduta neanche una goccia di niente solo con l'aria che è venuta giù chiedo ai grandi come è possibile che facendo così le candele si spengono come è possibile che faccio guardate le candele si spengono a chiudere le candele si spengono a chiudere le candele